Eccoci qua, buonasera a tutti. Margaret Mazzantini, Sergio Castellitto, benvenuti alla scuola Holden, benvenuti a Torino. Il film è Fortunata, uscito una settimana fa nelle sale, il film con gli incassi maggiori del weekend, considerato anche la giornata di ieri, accoglienza calorosa a Cannes domenica. Bene, partiamo da qua. Margaret, tu in un'intervista hai definito questa storia una favola amara e al centro di questa storia c'è una donna fortunata, questo è il suo nome per un twist cinico del destino, è una donna forte che lotta con i denti e con le unghie per fare fronte al quotidiano e per preservare il proprio diritto all'indipendenza e alla felicità. Sergio lo dice anche nella clip, tutto nasce da un tuo racconto. a quando risale questo racconto e come mai non è mai stato pubblicato? Sì è vero, questa è un'idea che nasce credo vent'anni fa quasi, tantissimo tempo fa. E niente, pensavo a questa ragazza un po' in difficoltà, con molte ammaccature, una ragazza con tante imperfezioni, però incredibilmente vulnerabile ma che la sua potenza la trova proprio da questa fragilità, è comunque una che si espone sempre, che combatte per avere un posticino al sole. È una ragazza umilissima, è una parrucchiera che vuole aprire un negozio, insomma è un sogno piccolino e poi una serie di difficoltà intorno, ha tre uomini intorno, è un amico del cuore bipolare, un marito violento e poi incontrerà questo principe azzurro che poi non si rivelerà tale, soprattutto ha un rapporto difficilissimo con questa bambina che è la figlia e poi si capirà anche perché, insomma perché comunque ha un trauma grande alle spalle. E niente, poi era un'idea, poi ho cominciato a scriverlo, poi l'ho abbandonato, poi l'ho ripreso come spesso accade, insomma alla fine avevo una cosa tipo veramente 300 pagine, 400 pagine, poi non l'ho mai pubblicato perché, non so, come libro non mi convinceva, però tornavamo sempre, io tornavo sempre a pensare a questa donna e è un po' figlia d'Italia di non ti muovere in realtà, cioè insomma, come dire, quelle creature un po' ultime, un po' dimenticate, a me piace sempre, come dire, io in fin dei conti tutta la mia letteratura in realtà poi alla fine parla sempre di ultimi, ecco, perché credo che poi alla fine la marginalità in qualche misura, no, è sempre un osservatore privilegiato, quindi mi interessano sempre quei personaggi che sono un po' fuori dal grande fiume, no, che sono sempre un po' al lato, in questo caso la periferia, in questo caso questa ragazza, che come dire, però ha una luce, una grande luce, no, nonostante tutto, infatti nel film lei perderà tutto, però poi alla fine avrà un risarcimento, perché la difficoltà di questa storia alla fine è che emergeva poi, forse anche, se puoi dire, quello che io poi penso della vita, alla fine che sia un'immane tragedia, no, va a toglierci sempre tutto, così, però, e quindi non riuscivo a trovare una ricompensa per questa ragazza, invece volevo trovargliela, perché tutte le mie storie sono abbastanza tragiche, però alla fine trovano sempre in fondo al tunnel una luce, qualche cosa che consente comunque di lasciare un, sì, come dire, un barlume di speranza, qualche cosa che... e alla fine però, come dire, questo percorso è doloroso, è faticoso, è un'estate romana, è incandescente, è un western quasi, infatti è molto bello il manifesto, mi è piaciuto che, insomma, se hai già scelto questo manifesto con lei, che ha questa aria molto, sembra quasi una ferinità, cioè quasi sembra un animale selvatico, e di oggi c'erano queste mura, no, romane, c'è come un recinto, no, c'è questa donna, questa pantera che lotta contro, e questo è bello, e poi mi piaceva il fatto che in un mondo cinematografico, ma non solo, insomma, diciamo, ormai, come dire, la cronaca, i meci, da continuamente esempi di questo tipo, ma comunque vediamo, insomma, ma anche poi il nostro cinema, la nostra letteratura, spesso sono un po' misogini, no, e quindi, insomma, l'idea di fare una donna così battagliera e bella, e poi abbiamo incontrato Jasmine Trinca, e come abbiamo incontrato lei, diciamo, siamo poi partiti per il film, ecco, perché serviva innanzitutto un'attrice importante. Tu stessa l'hai detto, c'è un legame quasi di parentela tra Fortunata e Italia di non ti muovere, e da qualche parte ho letto che una prima ipotesi vedeva Penelope Cruz a interpretare questo ruolo, poi non se n'è fatto nulla. Sì, no, insomma, era un'idea, quelle idee che vengono a caldo sull'onda dell'affetto e dell'amore prodotto, come dire, poi fece venuta al mondo dopo. Però il filo c'è, innanzitutto, nella capacità che appunto Margaret ha di disegnare questi ritratti femminili che incarnano storie, che sono portatrici loro stesse di storie. Quello che dice Margaret anche sul fatto che spesso il cinema italiano, come dire, il mondo femminile viene scritto dagli uomini, e quindi spesso queste figure femminili risentono di una visione maschile, risentono anche di qualche pregiudizio, se non addirittura di qualche frustrazione nei confronti del mondo femminile. Invece questo scrivere di una donna su una donna è come se il personaggio se lo scrivesse da solo, e quindi è come se il personaggio diventasse lui, lei, in questo caso, l'inventore della storia che narriamo, anche quando la storia la subisce. Nel senso che ognuno di noi, come dire, se è portatore di un destino e se, come dire, i gesti che compie, le parole che dice, determinano quel destino, lo modificano o quant'altro, fortunata questo lo fa continuamente, quasi sempre sbagliando. Quello che si direbbe dei personaggi femminili, dei romanzi dell'Ottocento, è un'eroina, è un'eroina, ma le eroine sbagliano, se no che eroine sarebbero? Se la traviata non fosse traviata, noi che ce ne frega della traviata? Se noi una persona che c'è la mattina, va a lavorare, torna a casa, per bene, invece i personaggi devono stare sul baratro, noi spettatori li vediamo e diciamo, non sono come lei, per carità, però mica sarebbe male avercelo quel coraggio, mica sarebbe male avercela quella rabbiosità, mica sarebbe male averci quel coraggio di camminare appunto sul baratro. Ecco, insomma, in questo senso, e in questo senso, con Italia, il filo rosso c'è e come, proprio perché, proprio come dice Marge, intanto perché a noi ci piace raccontare, a lei piace descrivere degli ultimi, dei deragliamenti. Anche Italia è un'anima deragliata, che reagisce con un'autorevolezza che solo apparentemente è passiva. Anche lei vive questo amore, conflitto, confronto con questo borghese, che è Timoteo, che recitavo io nel film, e così qui il primo incontro importante, decisivo e traumatico della vita di questa proletaria, ammesso che ce ne siano ancora, e ce ne stanno, è con un borghese, è con uno di un'altra classe, di un altro mondo, un uomo apparentemente caldo, empatico, che non sbaglia i congiuntivi, che sa leggere la vita degli altri, che sa stare accanto agli altri, e così via. Ecco, in questo senso il legame c'è e come, c'è anche la minigonna che le accomuna, c'è quel camminare, questa è la storia di questo film, comincia con una donna che cammina, e finisce con una donna che cammina, 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 quasi non riesce a fermarsi, per gioco dico che certe volte abbiamo dovuto decidere di fermare il fotogramma per farla finemente fermare di camminare. Beh, anche perché cammina in una Roma, che come si dice in questi casi, diventa a sua volta un personaggio. Un personaggio impressionante, quella piazza che avete, non so se qualcuno ha visto il film, quella piazza di Torpignattara, è una esplanade di cemento armato, dove quei cinesi si allenano a fare quella aerobica orientale, diciamo, poi la macchina si alza, finisce questo cemento e si incontra questi resti di una romanità antichissima, superiamo con lo sguardo quei resti di quella romanità, e vediamo questo condominio del 35, condominio popolare fascista, che visto dall'elicottero addirittura c'ha la M di Mussolini in pianta. Quindi in una sola inquadratura vediamo queste tre urbanizzazioni, queste tre architetture che si sono, Roma è tutta così, sono i luoghi in cui Pasolini ha raccontato Mamma Roma, a Cattone, sono i luoghi dell'acquedotto Alessandrino, del Quadraro, del Mandrione, io conosco molto bene tutta quella zona là, perché io sono nato, in periferia sono nato a Centocelle, via Torre de Schiavi, infatti la mia vita è stata tutta un cammino verso la liberazione, diciamo. Però ci torni ossessivamente. No, ma ci sono tornato per la prima volta, questo è un film che ha molti difetti, ma non è un film borghese, non è assolutamente un film borghese, è un film che ha una, credimi, eccellente autorevolezza di scrittura e di racconto, ma che ha, come dire, l'ambizione di cercare sempre una sgrammaticatura, di cercare sempre un controcampo che, come dire, che manda un po' fuori sinc la storia, le relazioni. Questa è stata una grande scommessa, fin dalla scrittura. Però è verissimo, la scrittura di Margaret e il cinema che è nato dal vostro sodalizio raccontano di personaggi deragliati, gli ultimi come li avete definiti. E in effetti anche Fortunata è un personaggio pasoliniano. Credo che voi stessi l'abbiate definita una meravigliosa coatta, no? Che cosa vi ha convinto? Lo chiedo anche a Margaret perché sono curioso di sapere, che poi a poco a poco ci arriveremo perché credo sia una curiosità che condivido con molti qui in sala, qual è il ruolo che ciascuno di voi gioca in questo sodalizio. Che cosa vi ha convinto in Jasmine? Che in effetti è una pantera all'interno di queste rovine, è anche molto abbronzata, c'è questo look. Jasmine, innanzitutto umanamente, perché penso quando comunque io penso, si risultano importanti ma è così importante il viaggio, quindi questo viaggio perché poi fare un film è anche una cosa faticosa e impegnativa e insomma devi stare a contatto molto stretto con le persone, quindi come dire, sono le persone che ami, no? Anche con le quali hai delle affinità. Per cui Jasmine aveva fatto con noi Nessuno si salva da solo, no? Insieme a Scamarcio è la coppia e quindi poi eravamo diventati molto amici ed è una ragazza che insomma che umanamente è una bellissima persona ed è un'attrice formidabile e quindi insomma è stato inevitabile. diciamo il progetto poi è un po' risorto perché avevamo trovato appunto come ti dicevo prima l'attrice che non è facile perché poi quando Sergio dice è vero questo non è un film borghese è vero pure che la maggior parte degli uomini degli attori sono un po' borghesi, hanno questa, quindi trovare un'attrice che riuscisse a spogliarsi perché anche Jasmine è molto nobile come no? però è bello perché porta questa nobiltà nell'essere poi questa ragazza di strada però ha una sua nobiltà ecco lei è una grazia naturale e poi Sergio devo dire che e questo gli attori lo riconoscono in maniera come dire all'unanimità cioè il fatto che lui comunque avendo fatto 70 film come attore ha una capacità di dirigere gli attori perché li ama profondamente che non è proprio detto non è proprio naturale perché non è detto che spesso i registi non amano così tanto così profondamente gli attori amano il loro progetto il loro disegno in fin dei conti un regista è qualcuno che costruisce un mondo quindi considera gli attori delle pedine di questo mondo invece Sergio è come se partisse sempre dal basso è come se dentro di loro soffiasse ogni volta la vita e quindi li dirige veramente in maniera mi ricordo per dire una delle indicazioni che diede a Edo no ma io la dico questa cosa qua lui la trova scandalosa io l'ho trovata così bella Edoardo Pesce che interpreta il marito violento che fa un'interpretazione straordinaria lui per spiegargli come avanzava questo qui che è una guardia giurata un po' con la panza gli diceva c'erano gli uomini che avanzano con la spalla questa avanza con il bozzo si può dire effettivamente gli ha fatto la camminata facendolo camminare con però quindi ecco le indicazioni di questo tipo che sono fisiche ma sono psichiche capito perché è vero che il corpo parla no poi per un attore quindi diciamo è questo questo saper dirigere questa orchestra perché poi sono tanti è un film difficile perché è un film corale un film quasi episodico cioè ogni ci sono tante storie e sono i film più difficili da farsi no perché tu ogni storia ogni ogni scena deve portare avanti come dire anche la scena successiva che però magari riguarda un altro personaggio però è tutto legato e allora ecco però c'è come una gettata lunga allora diciamo il mio ruolo è quello siccome poi Sergio è un fanciullo come regista nel senso è giovanissimo perché ha fatto molti più film d'attore che non da regista quindi ogni volta è come se lui è un esordiente ma questo è un po' siamo tutte e due così ogni volta ricominciamo da capo senza come dire come se non avessimo mai fatto nulla non mi ricordo non so se non è un regista che non mi ricordo diceva fate ogni volta questo lavoro come se fosse la prima volta che lo fate è l'ultima volta che ve lo fanno fare comunque nella sua come dire semplicità è una cosa molto forte allora diciamo lui il fanciullo muove dirige fa io sono al combo sono sempre dietro nel senso sono lì il combo e questo insomma vabbè il monitor dove si controllano le cose quindi gli dico guarda manca quello non ci siamo ricordati quell'altro io come dire ho l'arco della storia quindi diciamo ho sempre l'idea di tutto il progetto quindi sono aggettata a lunga mentre Sergio magari ecco è come dire nell'attimo che si entusiasma eccetera quindi ognuno ha il suo ruolo poi la nostra unione io non so se non so perché veramente come dire io nasco a me quello che interessa è veramente la scrittura la letteratura e anche perché è un mestiere che richiede una clausura un appartarsi e quindi è molto come dire consono a quello che io sono mentre invece il cinema è un lavoro sociale tu devi stare devi confrontarti con tantissime persone ogni giorno però proprio questo lo rende molto vivente il fatto che comunque ci sono gli umori di giornata perché anche uno stesso attore quel giorno viene con un umore diverso eccetera la scena cambia oppure piove non puoi girare lì quindi ogni volta si compone questo in questo film e qua è accaduto è stato un presepe vivente molto fragile ogni giorno si è stato quindi qualche cosa si è modificato e anche io nella scrittura ho riscritto le battute infinite volte anche perché la lingua è romano però un romano anche come dire è lingua ecco quindi c'è stato un lavoro ho cucito poi io sono anche come dire io sono sia la la creatrice delle storie ma sono anche la serva perché penso sempre che bisogna essere molto umili sempre rispetto al lavoro e quindi ogni volta così come mi inginocchio cercando ogni volta l'ispirazione o qualche cosa e così davanti agli attori a Jasmine per dire ho curato ogni piccolo particolare dell'abbigliamento delle cose perché è molto importante anche secondo me quello che e questo l'ha aiutata molto a diventare fortunata beh questi sono insegnamenti utilissimi per chi fa la nostra scuola essere umili sentirsi ogni volta principianti curare i dettagli e poi metterci passione perché si è vista dal backstage tu Sergio volevi volevi recitare ogni scena mi divertivo io sono un artigiano per cui è come se io dicessi all'allievo accanto a me all'apprendista guarda l'anfora la fai girare così mettici un pochino più di creda leva leva quindi insomma parlo di cose anche perché per me il corpo il comportamento è la prima parola che vediamo di un attore è come si comporta è come si muove e poi e poi vengono le parole e poi vengono e poi viene l'intellettualità viene il pensiero ma recitare è un gesto quasi ginnico è un gesto operaio io come dire alla fine della giornata ero fisicamente stanco non psicologicamente stanco no psicologicamente anzi ero entusiasta mi ricordo che e poi quando sto lì davanti al monitor e vedo l'attore che magari è impegnato in uno scontro fisico o quant'altro alla fine della scena allo stop a me fa male lo stesso braccio che fa male a lui eppure io non mi sono mosso dal monitor non so se qualcuno ha visto il film ma c'è quando nella questura il povero ragazzo grida affortunata dalle degne il carabiniere che lo tiene sono io cioè io li tocco gli attori anche in scena l'infermiere che tiene Edoardo Pesce che vuole aggredire la moglie quando hanno ricoverato la povera bambina sono io mi sono buttato spesso proprio nelle scene di combattimento sto lì e poi lo aggrampavo gli dico di questo di questo di così dillo e lui lo diceva proprio è corpo è corpo è fisico è proprio l'effetto l'effetto speciale del film sono gli attori che diventano la penna finale con le quali tutte le altre scritture la sua riprese e poi successivamente il montaggio vengono determinate poi è straordinario al montaggio vedi un attore che ha fatto delle cose per esempio la bambina che è abbastanza prodigiosa nel film tu vedi che ha fatto delle cose di cui non ci siamo accorti fino a quando non abbiamo visto per la terza quarta volta questo anche per raccontare come abbiamo lavorato e come lavoriamo io e Margaret io ho finito le riprese otto settimane ed ero molto stanco ero molto contento ma ero molto stanco e sono partito sono andato a trovare mia figlia che studia a Londra e io ho consegnato il film nelle mani di Margaret che lo ha sostanzialmente montato quando io sono tornato il film mi si è rivelato in maniera completamente diversa da come io l'avevo girato cioè che cosa ha fatto Margaret ha messo le mani dentro questo corpo no? e ha come dire asciugato tolto le punte eccessive spostato le cose miracolosamente scene che erano previste prima ci sono due tre nonsense nel film di cui nessuno si accorge perché quella scena doveva stare dopo invece sta prima l'intuizione fatale di raccontare l'incontro con l'ex marito nei primi tre minuti è decisiva perché tu racconti immediatamente di una donna che mente mente a se stessa e mente agli altri una donna che riceve questo ex marito a casa che la che come dire ne fa l'uso che vuole diciamo così lei lo subisce il giorno dopo quando va dal dallo psicoterapeuta dice il padre non è potuto venire perché aveva un impegno di lavoro e chi la smaschera questa verità questa verità la smaschera la bambina che alza gli occhi e in quel momento capisce di avere una madre bugiarda insomma è molto interessante anche perché il montaggio è proprio una riscrittura ecco io ecco dicevo prima io non so se mai nella mia vita mi sarei messa a fare il cinema ma probabilmente a scrivere per il cinema poi il fatto di stare con si è caldo fa caldo il fatto di stare con Sergio mi ha portato inevitabilmente perché lui ha cominciato appunto tanto lui è sempre stato il primo lettore dei miei libri no come spesso accade gli scrittori hanno una moglie o un marito no che comunque perché è la persona con la quale hai come dire più confidenza e quindi conosce meglio di chiunque il tuo lavoro ma soprattutto ogni artista che dà bisogno di qualcuno che gli racconta quello che fa ecco che gli racconti quello che fa e Sergio è quello quando io scrivo una cosa io non sono così sicura cioè Sergio è quello che mi dice guarda che questo è importantissimo no e così accade nel cinema cioè io ogni volta gli racconto quello che lui sta facendo in quel momento perché quando stai facendo quando stai costruendo sei completamente turbato magari vedi una cosa ne perdi altre dieci ecco quindi continuamente questo lavoro di essere in due questo poi li dichiamo anche molto però insomma è molto alla fine è costruttivo però quello che devo dire del cinema è che ti offre talmente tante possibilità perché poi rispetto alla scrittura è tutto a rastremare a togliere cioè tu devi togliere 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 e questa è la prima cosa questo me l'ha insegnato il fatto passare da un romanzo a un film significa togliere 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 tutto quello che ritieni necessario non è necessario per niente perché un'immagine racconta in assoluto molto di più di quello che non 10 pagine di sceneggiatura che probabilmente ti accorgi che puoi strappare ma siccome il cinema ha dei costi altissimi e questa è la vera differenza con chi per cui tu devi confrontarti sono abituata come scrittore a confrontarmi io posso fare quello che voglio posso prendere 10 anni per scrivere un libro posso fare il giro del mondo 50 volte insomma ognuno di noi sa che non costa nulla insomma stampare un libro il cinema ogni giorno ha dei costi altissimi è un'industria poi è un baraccone incredibile un carrozzone con infinite persone a volte ti chiedi se questa industria come mezzi è ancora un po' come strutture è ancora un po' vecchiotta ed è un'arte così recente ma insomma oggi un ragazzo con un iphone può fare un film meraviglioso quindi insomma poi da una parte invece c'è il cinema romano con tutti i reparti le cose eccetera che sono preziosi però a volte ti accorgi pure che è un carrozzone faticoso poi da un punto di vista economico significa che se tu non puoi pensare di perdere una giornata perché hai sbagliato una scena o perché è una scena che poi taglierai perché quella giornata costa quindi devi essere molto sicuro di quello che vai a fare e questo sempre lavorando insieme l'abbiamo imparato a togliere tanto prima ecco questa volta abbiamo veramente girato poco di più di quello che però poi al montaggio è ancora una riscrittura perché improvvisamente le immagini si rivelano e tu vedi delle cose alle quali non hai pensato e quindi un altro modo di ecco questo è veramente interessante ti insegna tantissimo quindi alla fine io sono diventata un'esperta a mio malgrado cosa che forse non avrei mai però è quindi nel processo di montaggio così come sul set si apprende qualcosa sulla propria storia si scopre le cose si rivelano veramente si rivelano come Mark usa spesso questa metafora della cipolla a ogni velo sveli sveli a ogni velo che come dire che tiri giù sveli un livello sveli e come dire spesso è un segreto che sveli anche a te stesso Mark dice scrivere e togliere forse è rinunciare avere questa grande capacità di saper rinunciare perché noi abbiamo tolto anche cose molto belle ma non erano necessarie ecco capire ciò che è necessario per noi è particolarmente difficile perché io non faccio film come dire che si appoggiano su delle tesi come dire immaginifiche o comunque o come dire dei teoremi sociologici o di visione del mondo io racconto le storie che è la cosa più difficile nel senso che io ho fatto dei film che si possono raccontare con 15 parole è la storia di una ragazza di periferia che cerca di emanciparsi ha sulla sua strada incontra tanti ostacoli che si innamora di un uomo ma la vita le insegnerà che anche l'amore non risolverà i suoi problemi e alla fine tornerà a casa con la coscienza di fare l'unica cosa saggia e profondamente consapevole della sua vita riprendersi sua figlia e andare avanti nella vita questa è la storia poi va la scrive però per noi è ancora più difficile perché io non faccio perché noi non facciamo immagini che di per sé ci debbano raccontare di teoremi non faccio un cinema come dire moralizzatore o quant'altro noi come dire quando parlo di romanzo popolare con una forte romanzo popolare con un inconscio ecco questo noi tentiamo di fare ogni volta e non è semplice non è semplice però è la cosa più emozionante quando poi vedi che quel castello quella parabola sta in piedi e credo che questa sia una cifra di tutto il vostro cinema la grande vitalità dei personaggi la loro fisicità quello che dicevi prima una sorta di di ruenza di intemperanza che poi dà luogo a questa grandissima intensità no? se dovessimo riassumere il vostro cinema io lo definirei così un cinema intenso lo stesso naturalmente vale per i tuoi per i tuoi libri e qui mi chiedo come si faccia cioè sembra tutto molto semplice quando lo raccontate voi però mantenere questa semplicità la semplicità del conflitto che 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 vedi i personaggi contrapposti fra loro guarda quando c'è prima un lavoro a togliere nel senso questo che è un film che sembra una favola urbana drammatica però insomma anche in realtà c'è un lavoro immenso dietro perché io l'ho scritto l'ho riscritto l'ho tolto perché il lavoro sia sempre quello togliere entrare dentro e poi c'è tutto c'è uno lei va in analia la bambina va dallo psicologo dell'ASL e poi a un certo punto è come se la madre si mettesse al posto della figlia in questa terapia ma nel film comunque c'è tutta la terapia c'è tantissimi segni che tornano lei dice quando ero incinta sognavo che la figlia non aveva i piedi è la prima cosa che dice a lui quando si siede la prima volta e racconta un po' lo sfacelo della sua vita quando si innamora di lui poi bacerà i piedi di questa figlia l'ultima scena quando poi alla fine si risolverà il trauma nel senso tornerà nel luogo del trauma dove il padre è morto affogato la cosa che lei vede sulla spiaggia è la stessa bambina che lancia le scarpe del padre una versione precedente c'era un monologo in cui lei raccontava che i pesci si erano mangiati i piedi del padre questo corpo non era mai stato trovato poi è andato via però rimane tutto quanto a livello subliminale sono tantissime cose che poi alla fine perché quella è importante ma soprattutto è quello che è dietro le nostre storie sono sempre dietro hanno sempre tanti livelli diversi spesso addirittura quando nel montaggio certe volte si mette come un'immagine in più quella cosa del subliminale come qualcosa che questo c'è di continuo qualche cosa che entra e questo è stato importantissimo è costruire un film che avesse che ha tante cose da dire ma come un'onda e alla fine si è coinvolto e questa grande vitalità in realtà ce la mettiamo noi nel senso che veramente soffiamo vite dentro questi personaggi con un amore poi alla fine è l'unica cosa che conta giocarsi tutto farlo con passione fino in fondo e poi nel mio lavoro io so che è richiesta una sorta di presunzione infantile chi è un costruttore di storia qualcuno che presume di raccontare il mondo una sorta quindi come ti senti un po' un dio chi è che costruisce chi è che dà vita alle cose chi è che crea e questo è un po' questo lavoro però in realtà quando dicevo prima devi avere un'immensa umiltà perché poi devi sempre scendere nel Flannery O'Connor che è una scrittrice che io amo molto diceva noi siamo fatti di fango polvere per fare la letteratura ma questo per fare tutto tu devi batterti e rotolarti nel fango e nella polvere se vuoi essere umano perché di questo è fatta umanità ecco i nostri personaggi si dibattono sempre in questa e quindi sono sempre ammaccati imperfetti un po' sghembi un po' però alla fine credo che poi le imperfezioni tutte le cose ci rendono poi profondamente umani e alla fine così anche quando io scrivo un libro penso che a volte mi chiedo ma poi tutto questo lavoro alla fine credo che poi secondo me la buona letteratura così come alla fine di tutto questo debba aiutarci appunto a sentirci più umani a sentirci più uomini accanto insieme ad altri uomini nello stesso cammino nello stesso capito a tenerci e quindi credo che se poi oggi possa ancora resistere in questo mondo globale in cui alla fine si cerca solo il potere a tutti i livelli solo il potere solo i soldi solo siamo tutti un po' come dire schiacciati perché ci sentiamo come dire rappresentanti di un mondo che sta quasi in via di sparizione basti pensare quello che è diventato la letteratura i scrittori che parlano che fanno show cioè è tutto diventato un po' spettacolo rispetto a quanto non fosse anni fa io già quando iniziai mi ricordo era tutta un'altra cosa insomma adesso è un continuo c'è lo scrittore fa il libro poi fa la tournée e questo ovunque nel mondo e tutto è esportabile tutto insomma quindi siamo tutti un po' allora io credo che alla fine insomma ritornare poi credo l'unica vera cura poi in realtà è l'interiorità ecco in questo mondo un po' superficiale in questo mondo in cui siamo tutti quanti navigatori ma di non si sa cosa alla fine l'introspezione questo è necessario e credo che poi un buon libro un buon film alla fine ti susciti qualche cosa un pensiero i nostri film sicuramente sono un po' delle scosse elettriche perché se non è come se ti resuscitano un po' e questo è buono perché se no a cosa serve farlo questo lavoro se in realtà devi stare là protetto noi alla fine ci mettiamo sempre a repentaglio questo è indubbio tant'è che spesso ci sputano in faccia non siamo mai stati capito ci hanno anche spesso molto criticato perché poi come diceva Sergio poi la critica la fanno ma alla fine gli scrittori i critici le cose le persone che fanno questo mestiere spesso sono lì che sorvegliano gli altri per vedere se quello c'è un po' più di talento di quell'altro quindi la loro intenzione è quella di tenerti mentre invece per cui io ho sempre parlato anche quando parlavo della mia letteratura il mio riferimento è come dire alta letteratura popolare cioè quello che facevano gli scrittori di una volta quando pubblicavano appuntate sulle riviste perché avevano bisogno di campare quindi queste storie dovevano interessare le persone e credo che le persone se tu le interessi se tu gli racconti una storia che li può riguardare eccetera credo che almeno come dire ancora siamo un po' salvi se no non rimane che la televisione alle persone che spesso invece si schifano questo pubblico che tutti vogliono che tutti vogliono vendere tutti vogliono però da qualche parte fa schifo a tutti gli autori e quindi c'è questa ecco e invece io credo che ho sempre come dire fin da piccina quando ho cominciato perché ho cominciato recitando in teatro giovanissima la mia intenzione era sempre quella di avere una voce che potesse raggiungere l'ultimo in sala o comunque di risuscitare come dire qualche uomo che magari era entrato a teatro appresta una moglie solerte perché le donne sono sempre culturalmente più vive in provincia quindi portano questi mariti stanchi morti da mortiti e io cercavo di risvegliarlo quel marito là ecco mi rivolgevo sempre a uno per cercare di risvegliarlo e credo che questo mi è rimasto come intenzione di essere capito poi se sta vitalità ogni tanto fa schifo alle persone sangue alle persone capito ma questo è un problema degli altri sicuramente noi ci siamo giocati la carne sempre e questo per questo me la sono sposata è una cosa assolutamente vera quella che dice cioè che il nostro compito è di come dire fare esaurire l'anestesia in cui spesso noi tutti quanti viviamo un buon film un buon libro ti fa passare quell'anestesia allora ricominci a sentire come quando esci dall'anestesia se c'hai un dolorino senti il dolorino però se c'hai un sapore senti anche il sapore e questo è il nostro compito far scemare quell'anestesia in cui spesso viviamo tutti tutti siamo un po' anestetizzati perché tutti abbiamo paura di prendere come dire frontalmente un dolore e così abbiamo anche con qualche modo paura di prendere frontalmente un momento di entusiasmo nella vita ci accontenteremo più di un grigio che sta bene sul tutto Fortunata tenta questo Fortunata dice no io non ce sto io deraglio io deraglio io esco dai binari e voglio diventare una poi capisce che vuole diventare un'altra cosa poi capisce che vuole innamorarsi capisce sempre qualcosa subito dopo aver commesso un errore in qualche modo poi io ho ultime due domande brevi poi qualche domanda dal pubblico facciamo un salto nel passato voi vi siete sposati o quantomeno state insieme da 30 anni quest'anno facciamo 30 anni di matrimonio da prima e vi siete conosciuti applauso giustamente auguri no poi è difficilissimo lavorare insieme e vi siete conosciuti facendo teatro si vuoi sapere anche la città si Torino facevamo insieme la tournée di tre sorelle di Ciecof col teatro di Genova lei era Irina io ero Tusenbach e facevamo come si dice a teatro equipaggio assieme c'erano un A112 e giravamo questa bellissima tournée del teatro di Genova e dopo alcuni tentativi diciamo così non andati a segno finalmente a Torino ci siamo guardati e così via e da quel giorno insomma siamo ancora qua ogni tanto abbiamo fatto un figlio pure ogni tanto abbiamo fatto un figlio tu Sergio questa è una domanda per te perché negli ultimi anni tra i tantissimi ruoli che hai interpretato ce n'è uno in particolare che noi sentiamo molto vicino ed è quello di Giovanni Mari perché tutti gli autori di Intreatment sono stati anche i nostri docenti i nostri maestri a partire da Nicola Lusuardi Giacomo Durzi Alessandro Fabri Stefano Sardo e ti volevo chiedere che cosa qual è la sfida lì naturalmente è tutto molto diverso rispetto a questi a questi scenari io penso che Intreatment è stata come dire forse la serie sostanzialmente più rivoluzionaria degli ultimi dieci anni poi alla fine una serie come dire che riesce a crescere in questo modo all'interno di uno straordinario successo delle serie che le serie televisive sono cresciute ed esplose con il loro successo negli ultimi forse sei sette anni sostanzialmente una serie che riporta tutto il potere alla parola due attori chiusi in una stanza due primi piani in fondo oppure un piano d'ascolto è un attore che parla quasi in un gesto direi quasi teatrale ma riconsegnando tutto lo spettacolo è nelle parole penso che il successo che le tre serie hanno avuto tra l'altro noi siamo uno dei pochi paesi dove abbiamo girato tre serie e questi scrittori che tu hai citato sono stati bravissimi anche se hanno come dire rimodellato perché Intreatment è un format come sapete israeliano che si chiama Betty Pool e poi è stato esportato la più nota naturalmente però abbiamo ragioni edizione quella dell'HBO con Gabriel Byrne però anche la nostra Agai Levy che è l'ideatore disse che la nostra era la migliore quella migliore uscita io ho avuto anche il sospetto che ogni volta andavo a presentare una serie in un paese diceva la stessa cosa però diciamo che mi fa piacere che l'abbia detto e questi nostri scrittori sono stati molto bravi anche a perché ci vuole ci vuole talento a scriverlo ci vuole anche talento a riambientarlo a rimodellarlo in maniera credibile perché insomma faccio l'esempio il poliziotto che Caprino fa nella prima serie il poliziotto infiltrato dalla mafia era nell'edizione storica un bellissimo personaggio di un pilota americano che aveva vissuto un trauma terribile perché aveva bombardato un villaggio in Iraq uccidendo non so quanti bambini e quindi viveva questa cosa e poi la cosa interessante è che attraverso questo trauma faceva l'outing della sua omosessualità quindi insomma una drammaturgia formidabile insomma e questo loro sono stati molto bravi è finita però sono tre serie e non ne facciamo più una quarta ci sono 105 episodi buttati nella nella piattaforma dell'aria ognuno voi se li potrà vedere quando vuole per chi non l'ha vista recuperatela perché è veramente formidabile c'è qualche domanda? intanto grazie non sono certo un'alunna della scuola con i miei 80 ma ho un desiderio forte di vedere quella bambina con le scarpe dell'uomo che esce dalla spiaggia se riuscite a a farmela capire di più perché questo film è bellissimo quindi quella bambina che raccoglie le scarpe è per me di un'importanza non mi lascia dormire cioè è una cosa grandiosa grazie se me la spiegate eh la spiega lei come le dicevo signora nella prima scrittura lei spiegava in un monologo che il padre è morto affogato e non hanno mai ritrovato il corpo e che lei tutta la vita aveva sognato che i pesci avessero mangiato questi piedi poi tutto è andato via eccetera sono rimasti i piedi della bambina quando lei si innamora di lui bacia i piedi della figlia eccetera poi arriviamo su quella spiaggia in fin dei conti nonostante lui si dimostri poi un disgraziato perché poi nel film c'è tutto il gioco della fortuna dei numeri quindi alla fine lui si rivelerà però comunque il suo percorso terapeutico lo fa fino in fondo la riporta grazie al corpo di Esther della signora eccetera la riporta nel luogo diciamo nel estuario la riporta laddove è accaduto il trauma in quella marina sudicia diciamo che è ambientata a Ostia proprio all'idroscalo dove morì Pasolini e su quella spiaggia l'urida questa ragazza che ha perso tutto si denuda e entra in acqua e ha anche tatuato dietro questa farfalla che è molto bella che questo suo amico del cuore le incide su questa carne è come se si liberasse entra nell'acqua e quindi ritorna in questo liquido amniotico perché poi comunque il mare l'acqua in genere è un luogo dal quale tutto ha preso origine e quindi lei si e probabilmente forse con un istinto suicida che non si sa lei era uno dei finali possibili il fatto che lei si immergesse in questa acqua si immerge e chi lo sa forse sa per andare poi si volta e guarda questa spiaggia e improvvisamente vede se stessa bambina vede se stessa bambina e lascia queste scarpe probabilmente il gesto e vede la bambina che lascia quelle scarpe del padre queste scarpe vuote che sono terribili non le scarpe e probabilmente in questo vedere questa vede sia se stessa bambina cioè quello che lei ha fatto è che probabilmente lei è fuggita impaurita quando ha visto il padre affogare questo lei racconta il padre si faceva d'eroina e quindi lei è fuggita impaurita e l'ha lasciato là non ha fatto nulla non ha chiamato soccorsi non ha fatto nulla perché la figlia di un tossico è abituata a non chiamare nessuno a vivere nel silenzio a aver paura di tutto perché il padre gli dirà state zitta sta buona sta ferma e quindi lei fugge e abbandona quel corpo del padre il corpo insepolto e poi c'è tutto il racconto di Antigone anche Antigone dà sepoltura a quel corpo lei finalmente dà sepoltura al corpo di quella donna di quella Esther e però torna grazie a questo corpo come una storia nutre l'altra torna su quella spiaggia e lì rivede il corpo del padre e rivede se stessa con queste scarpe che fugge ma in questo rivedere se stessa c'è sia la bambina ma c'è anche la donna di oggi che lascia il trauma finalmente lascia lo lascia andare questo padre che ha tenuto dentro di sé lasciando quelle scarpe lo lascia andare e infatti riemerge riprende la figlia e sarà una madre comunque ammaccata ma comunque sarà una madre trovavo una certa una certa similitudine con splendore cioè quella scena finale del libro in cui Guido si immerge nelle acque e lì poi lascia aperto un po' tutto infatti c'è stato un momento in cui pensavo a un'altra fine del film e infatti lui non torna poi io nei film che faccio ci metto sempre il mare il mare è sempre questa ultima o prima spiaggia questa possibilità il mare è l'unico luogo dove non c'è un muro dove puoi come dire e questo finale ci vuole raccontare questa cosa qua c'è una donna che entra nel mare e c'è una ragazza che fugge sulla terra e le sta dicendo attraverso quello che ha raccontato Margaret torna 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 che c'hai da fare esci da là lei ha lei ha conosciuto nella dal punto di vista simbolico nella nel film ci sono due sedute psicoanalitiche che non sono certo quelle intorno alla scrivania ma sono quando lo psicoterapeuta la porta a Genova in un apparente come dire weekend d'amore ma in realtà la porta all'acquario le fa vedere com'è profondo il mare è la prima volta che la fa immergere nel mare infatti la 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 fortunata lì ha lo sguardo che hanno i bambini no? guarda le cose dal basso verso l'alto sa così tutto e poi la porterà sulla spiaggia dove c'è la superficie dove le fa vedere la superficie quelle sono le vere due sedute psicoanalitiche del film il resto sono come dire è burocrazia psichica intorno a una scrivania no qualcosa di più della burocrazia però una una mia riflessione innanzitutto volevo dire che io sono uno di quegli uomini che alla sera arrivavo a casa trascinato dalla moglie in un mondo che io non conoscevo un mondo molto bello perché leggere Mazzantini non è facile bisogna entrare dentro leggerlo una volta non basta guardare i film di Castellitto non basta una volta la prima impressione quando siamo usciti dopo Fortunata è bisogna rivederlo un'altra volta perché ha tante sfaccettature non solo io ho trovato che la vera psicanalista è Fortunata perché Fortunata è iniziata in un modo e è finito nello stesso modo i personaggi che ci sono girati attorno sono cambiati tutti il marito è cambiato non ha sparato gli ha sputato in faccia si è ribellata e lui è cambiato la bimba ha sputato in faccia la madre e è tornata da lei tutti fanno la terapia lei è rimasta fortunata e ha mantenuto la sua vita ha ripreso la figlia ha continuato a fare la torcchiera questo è quello che ho visto la prossima volta che lo rivedrò probabilmente ci sarà qualche cosa di diverso come negli altri film che abbiamo visto questo è molto bello questa è una riflessione che ha fatto è veramente come quando si dice puntualissima proprio ha visto il film ma non lo ha visto soltanto con gli occhi come dire della riflessione come dire intellettuale ma proprio se l'è fatto scendere dentro eccellente il fatto di rivederlo per lo sbigliettamento è formidabile però quando io dico poi alla fine sono i lettori che hanno bisogno dei libri no? cioè il pubblico che ha bisogno di andare al cinema sono le persone che vanno a cercare non è la critica piuttosto e quindi uno quando io dico io scrivo sempre pensando a qualcuno non si scrive per se stessi secondo me si scrive per gli altri perché poi alla fine sono le persone così allora in quel senso l'opera tu la porti fino a un certo punto ma sono le persone che continuano l'opera perché se la fanno vivere ecco se quella e quindi come diceva Sergio è un inconscio secondo me deve essere vivente perché uno ha bisogno di quella cosa in quel momento come i libri che uno ama cioè le ha cercate e le ha trovate in quel momento della propria vita perché ne aveva bisogno e stranamente questi libri hanno trovato te e così è questo percorso quindi la vita è sempre esperienza che si moltiplica e la letteratura l'arte in generale è una possibilità di moltiplicazione infinita della nostra esperienza umana certo io non ho ancora visto il film Fortunata però visto che è stato citato Non ti muovere quindi l'analogia col personaggio ho ripercorso quelle scene il libro e già all'epoca mi ero chiesta come aveva fatto l'autrice a descrivere così bene un personaggio che è veramente al limite della società una reietta della società e una donna che invece è lei sembra così diversa da questi personaggi come fa veramente a descriverli in maniera veramente così intensa incredibile è quel sembra che è la risposta è quel sembra sembra no in realtà io ho una vita piuttosto dura insomma diciamo che comunque è un percorso poi alla fine sarebbero troppe cose da raccontare io sono arrivata alla scrittura come proprio negandola perché non l'avrei mai voluto fare perché mio padre ha scritto per 40 anni lo stesso libro sono vissuta in periferia e quindi conosco molto bene la periferia quindi per arrivare nella città prendevo un pullman del lago tra l'oggi giorno quindi diciamo uno che mi vede così in Italia la conosco molto bene hanno quelle infinite ragazze che vedevo salire tutti i giorni e che andavano verso la città facevano le commesse nei negozi in centro verso un sogno e che poi tornavano a casa la sera distrutte quindi sono persone come dire un mondo e poi da qualche misura credo alla fine se sei un vero artista è come se racconti sempre una disperazione troppo grande che hai c'è come un ammanco enorme e tu scrivi perché hai una fame sempre aperta è come se tu cerchi sempre di riempire quel buco e quindi poi alla fine se ti chiudi nell'apnea nella bolla di un libro di un film probabilmente un po' quella fame si plaga però poi di fatto ricomincia subito non credo che ti metti a fare questo lavoro se sei una persona proprio spensierata e felice quindi credo che dietro ci sia quel sembra domanda che esula dal film c'è qualcosa dell'Irlanda nella sua scrittura l'Irlanda c'è sempre è un paese di di grandi di folli e qui c'è Freud sono gli unici che non si possono psicanalizzare perché sono proprio quindi sì insomma di teste dure di grandi scrittori anche di grandi artisti e poi c'è il cielo i colori il mare sicuramente c'è io sono proprio un misto tra mio padre e mia madre quindi l'Irlanda c'è sempre buonasera io ho visto il vostro film tra l'altro un lunedì pomeriggio praticamente da sola al cinema perché sapevo che poi c'era questo incontro quindi ho fatto le corse per riuscire a vederlo e inevitabile per me è stato il confronto tra queste protagoniste sia Italia e Fortunata io ho trovato un'Italia fortunata all'interno del film perché poi il finale è ovviamente diverso e niente a me è piaciuto molto e volevo sapere visto che non ho avuto la possibilità perché credevo che uscisse anche il libro fosse uscito quindi ho fatto invece no è stato scritto volevo capire il dottore ha vinto è è scappato beh dunque all'inizio del film nel loro primo incontro la Fortunata dice se ci avessi i soldi risolverei tutti i miei problemi e lui quasi scandalizzato dice ma il denaro è così importante per lei scusi il tempo ci vuole tempo sì ma il denaro è così importante per lei e lei risponde perché per lei no se c'è i soldi io è quello che in qualche modo la quasi rimprovera di questa di questa diciamo così bassezza e invece è quello che si farà pagare ben salata quella seduta psicoanalitica ma perché sono tutti anime deragliate tutte declinazioni di quando dico di falliti di meravigliosi falliti o di più o meno nobili o ignobili falliti tutti questi uomini sono come dire sono io ho avuto certe volte la sensazione di vedere come se se lo potessi visualizzare è una donna che vive dentro una gabbia no e questi maschi che girano attorno a questa gabbia girano attorno girano attorno lei è al sicuro perché la gabbia è chiusa però però sta dentro una gabbia e questi maschi che girano attorno che vorrebbero infilare la mano dentro fra le sbarre e acchiapparla tutti la vorrebbero acchiappare quello se la vuole come dire fare quando ha comodo suo quell'altro perde il controllo la perdita del controllo quell'altro la desidera come sorella maggiore come madre mancata senza di lui senza di lei lui non può avere non può avere il magnesio non può avere il litio non può avere niente tutti la vorrebbero acchiappare l'unica possibilità che come dire questa ragazza ha di scappare è di aprire la porta della gabbia e di cominciare a correre sai quella cosa che io diceva ogni mattina una gazzella si sveglia e attraversa la giungla pensando che un leone è questo e questi uomini che paradossalmente nel momento in cui lei si rende libera fanno quasi un passo indietro lei è intoccabile in quell'acqua lei ormai è intoccabile è molto giusto quello che diceva lui cioè gli altri sono come dire sono caduti dentro un'altra dentro una pozzanghera della loro vita quello scappa con chissà tre milioni di euro con quella faccia che fa alla fine che si lei si è preso quella sassata lì come una ragazzaccia tira i sassi come allo stadio questo con quella faccia che va via che non ha avuto il coraggio non ha avuto il coraggio invece quell'altro lo stupratore quell'ex marito violento aggressivo che è l'unico che dice una cosa nobile nel film è l'unico alla fine del film dice Barbara non ci vuole stare con me vuole stare con te è l'unico che dice una cosa assolutamente di grande rispetto è stata veramente molto brava nella recitazione davvero grazie grazie mille io anche l'ho visto e avevo una curiosità mi sembra che almeno tre dei personaggi protagonisti abbiano dietro un abbandono quanto questo ha pesato nella scrittura del romanzo e anche nella scenografia nel film il problema degli orfani è che ci lasciamo alle spalle troppe versioni della verità sono tutti orfani nel film no? si era indispensabile lei è un orfano lei la madre neanche l'ha conosciuta il padre appunto era un tossico che si andava a drogare così e poi sapremo come è finito Patrizio pure ha un trauma infatti poi il manco di Patrizio si vede a Genova appena accennato in quel monologo il padre poi in realtà lui spesso accade lui compie un gesto simile a quello che ha quando la vita improvvisamente da questo quartiere malandato di folli arrivano i numeri e i numeri arrivano a lui incredibilmente questo biglietto lui se lo ritrova in mano come pasta di mani arriva a lui e lui improvvisamente può come diceva giustamente lui improvvisamente perché tu cominci spesso gli analisti cominci a fare quel mestiere perché hanno loro stessi cominciano attraverso l'analisi di se stessi in autoanalisi vanno in analisi e poi dopo passano quindi improvvisamente lui è come se il suo trauma si rivela a lui cioè quel biglietto dare la possibilità a Patrizio di essere finalmente quello che forse aveva capito aveva rimosso tutto il rimosso del padre tutto quello che finalmente lui si può permettere di essere qualche cosa di diverso non è più il lui sembra ogni uno di questi uomini sembra come dire ha una parte di onestà e di disonestà Franco è disonestissimo come Modi si salta addosso dice le varolacce un capone dice eccetera però alla fine probabilmente nell'amare lei è più onesto lui che di Patrizio che invece ha un'onestà è molto corretto e poi alla fine invece c'ha ragione lei quando dice qui non ci stanno i pubazzetti quando quel litigio finale si rivela improvvisamente disonestissimo come la vita gli offre la possibilità e la possibilità gliela offre questo quartiere questa donna quando dice madonna deve portare un po' di fortuna tutti hanno avuto sfortuna lui improvvisamente invece è lui quello che ci guadagna e questo è dall'inizio del film lui dice il cicano dice giochiamoci l'affogato quando c'ha la prima cosa che lui dice quando tira giù quella cosa quella saracinesca dei negozi dice giochiamoci l'affogato fortunata poi l'affogato se lo giocheranno lui dice tu hai una mente criminale io faccio un passo indietro tu hai una mente criminale io non mi posso l'unico gesto criminale del film lo compie lui impedendo a lei non gli lascia neanche come dire un 10% per avere un negozio porta via tutto finisce come suo padre finisce come suo padre come un ex criminale di guerra magari con quei soldi aprirà anche un bellissimo ospedale per guarire i bambini africani no? ma anche se questo fosse possibile il crimine il crimine è compiuto il crimine è sempre quello è la negazione dell'amore quello è il vero crimine desidero ringraziare Indigo Film e la Universal che ci hanno aiutato a portare qui Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto che ringrazio ancora il film è fortunata andatelo a vedere è una bomba grazie ancora grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti